Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Io sono Ilaria e parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto a ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sono le previsioni per l'autunno 2021 per il segno della vergine. Vi ricordo comunque che sono previsioni di tipo generale, fatte per un collettivo, quindi potrebbe tranquillamente essere che non tutto risuoni con voi. Io vi consiglio di prendere i messaggi che vi servono e il resto semplicemente di lasciarlo andare all'universo. Per avere un messaggio più ampio e completo vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata a quello che è il vostro ascendente o la vostra luna. Bene, mostrami, vergine, autunno, grazie. L'eremita. Vergine, vi vedo in una fase di isolamento ricercato, nel senso che probabilmente avete bisogno di stare da soli, avete bisogno di fare chiarezza interna su alcune cose di voi stessi, stato comunque cercando di fare una ricerca spirituale. L'eremita mi parla anche di quello che è un certo tipo di saggezza acquisita, ok? Andiamo a vedere nello specifico. Per l'autunno, 8 di bastoni al contrario. Bene, allora l'8 di bastoni, il re di pentacoli. L'8 di bastoni al contrario mi parla di quello cavaliere di denari. L'8 di bastoni mi parla normalmente di il diavolo, di energie molto veloci. In questo caso, essendo girato al contrario, potrebbe proprio voler dire che c'è un'energia super lenta, anzi, probabilmente non c'è un certo tipo di comunicazione. Può essere con qualcuno o in riferimento a qualche cosa. Ecco, la carta generale della lettura è appunto questo eremita. Quindi vi viene proprio da dire che in questo momento siate con voi stessi e basta e che non vogliate sentire altre ragioni, insomma altre influenze esterne. È come se ci fosse questo progetto alla quale voi siete praticamente sul punto di farlo partire o sul punto di concretizzarlo. avete lavorato molto su questo progetto, avete studiato. Un progetto potrebbe anche semplicemente essere voi stessi. Con quest'ora di pentacoli probabilmente avete studiato, avete lavorato sodo, avete cercato comunque di costruire un qualche cosa di concreto. Anche se non siete andati avanti o se non andrete avanti molto velocemente nella realizzazione di questo qualche cosa, però vedo che questi piccoli passi che verranno fatti o che vengono fatti, sono passi che danno un certo tipo di concretezza. ok? Sono passi che comunque vi permettono di mettere delle basi, diciamo. C'è poi anche questo diavolo. Questo diavolo mi può parlare di diverse cose in realtà. Per certi versi la luna al contrario. Per certi versi mi può parlare di quello che è il potere personale, che può essere tranquillamente il vostro. Per altri versi invece potrebbe parlarmi di quello che è un'energia di controllo. Ok? Allora la luna al contrario, 4 di coppe, il 6 di denari e l'appeso. Si vede? Ok. Quindi appunto c'è un'energia di controllo e mi viene da dire per quello che riguarda quelle che sono le le emozioni subconscio. Come se qui venisse nascosto un certo tipo di sensazione o di emozione, di paura comunque. C'è un reprimere. È come se non si desse retta a quelle che sono a quello che il proprio istinto, a quello che proprio intuito mi verrebbe da dire. In realtà si sta un pochino lì sconsolati, probabilmente perché si ha anche paura di un rifiuto da parte di qualcuno o probabilmente se è un progetto si ha paura che questo tipo di progetto possa non piacere come si spera. E comunque c'è anche questo 6 di pentacoli che mi parla sempre di quello che è il dare mal dare il giusto. È una carta che normalmente parla di generosità, ma ci sono alcune persone che fanno un po' fatica a calibrare quanto è giusto dare. Continuano a dare, 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 dare e poi si scaricano. E difatti poi c'è anche la carta dell'appeso. L'appeso mi parla proprio di quello che è un periodo di fermo, uno stand by. È comunque un'energia che non è stagnante, però si è ferma. È un'energia necessaria per vedere le cose da un altro punto di vista. Ci si sta prendendo, o meglio, ci si prenderà il tempo per fare determinati tipi di valutazioni. Perché qui c'è proprio qualche cosa che non si riesce a vedere. Ci sono dei forti dubbi che non si riesce a sviscerare. Ecco. È un po' come se si fosse in ambivalenza, mi viene da dire, tra quello che è la sensazione di pancia e la sensazione, o meglio, i pensieri della mente. È come se ci fosse un bibio, no? Seguo cosa seguo? Chi seguo? E non si riuscisse effettivamente a vedere le cose in modo obiettivo. Ecco perché poi c'è anche la carta dell'appeso. L'appeso è proprio un periodo di raccoglimento, come dicevo prima, per cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. Ed è un periodo dove è meglio star fermi, è meglio non fare niente, non muoversi, insomma. Wow. Allora, 4 di bastoni dicevo. Con questo 4 di bastoni potrebbe esserci un qualche cosa, un qualche scelta che deve essere fatta inerente alla casa e la principessa, l'imperatrice. C'è un qualche decisione probabilmente da prendere per quello che riguarda la casa, una stabilità, un determinato tipo di contratto, se si tratta di un progetto lavorativo. Comunque la lettura finisce con l'imperatrice. L'imperatrice è una carta di grandissima abbondanza. È una carta di riuscita, comunque. È una carta di creatività, di creazione. Per qualcuno, magari potrebbe anche fare riferimento all'arrivo di un bebè. Comunque è una carta di concretizzazione. È una lettura che finisce comunque in modo molto positivo. Però c'è da, sì, valutare bene determinati aspetti del vostro inconscio. Mi verrebbe da dire che anche con questa carta dell'eremita avete proprio bisogno di, come posso dirvi, farvi una lista di quello che è bene per voi e di quello che invece magari si aspettano gli altri e per voi non va bene. Dovete ritornare a quella che è la vostra, la vostra essenza, il vostro bambino interiore e fare questo tipo di ricerca spirituale. Cos'è che è giusto per me, per la mia anima? Bene, vi do ancora un messaggio da queste carte, che sono le carte delle Fatine. Andiamo a vedere, cari amici della Vergine, che altri messaggi ci sono per voi? Tre carte per piacere, grazie. Allora, la prima mi parla di rispetto. In questo caso mi parla di rispetto per voi stessi, ok? È giusto, e difatti è anche un po' questa remita. È come se doveste imparare a prendervi cura di voi stessi, a prendervi del tempo per voi e tempo di qualità. La seconda carta parla di ricerca e si, come dire, adatta molto bene a quello che è la carta delle remita di cui sopra, quindi mi parla di questo tipo di ricerca interiore, di fare centro, di andare al centro. Qui c'è una figura, una fatina che sta cercando appunto con l'arco di tirare la freccia nel centro. Quindi è un po' come se vi dicesse vai al centro di te stesso. E difatti l'ultima carta mi parla di essenza. Qual è la vostra essenza? Bene, Vergine, questo è quello che ho per voi, per la stagione autunnale 2021. Spero che in qualche modo la lettura abbia potuto aiutarvi, illuminarvi, darvi spunti di riflessione. Se sì, mi raccomando, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi ringrazio tanto per il tempo trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!